Ci siamo, ci siamo tutti, ecco qua il Sacro Session Show al pieno della sua forma, vi invitiamo, dove vi invitiamo Oscar? Manca Bertulli proprio, ah manca Bertulli che adesso troveremo, adesso arriva, ti ammazzo e ti ammazzo, Davide! Siamo nei camerini, vi invitiamo tutti quanti, sabato prossimo, 9 marzo, dove signora? A Gianni Gallia, la Fenice, Teatro Fenice, ultima rettica mondiale, signora Pedotti, dov'è? Davide! Sì, c'è casa signora, un attimo, Davide, Davide, dai, ecco qua, ecco qua, è la caricatura in pianissimo, ma era brutto, no, vai via Davide! Sabato prossimo, tutti quanti tutti insieme, Semiglia! Davide! Davide, vieni qua, Davide, allora! Ho dato via!